Ciao, sono Franco e qualche commento al mio presepe è necessario. È stato allestito in due mesi approfittando, se così si può dire, di una pausa forzata dal lavoro. Una premessa è necessaria e cioè che non è completo, in quanto avendo deciso di esporlo almeno per questo Natale 2013 e corgendo, man mano che andavo avanti che di lavoro ce n'era ancora tanto, ho fatto la scelta di non popolare l'arredamento interno e anche quello dell'edificio. È quasi tutto fatto di materiale riciclato, tranne le luci, le chiome degli alberi e qualcos'altro di poco conto. Il materiale di baso è compensato gesso e cartone per quanto riguarda l'edificio, ma un considerevole apporto mi è stato dato dal recupero di materiale dei boschetti locali e casualmente anche dal territorio di Eschia. Una parte dei pastori sono ancora quelli recuperati dalle vecchie edizioni, quelle di 30 anni fa. Le ho parzialmente integrate con acquisti fatti questi giorni nella mia terra d'origine casertana. Comunque, anche nel popolamento della corte e della vita classica da presepe manca ancora materiale e conto di approvvigionarmi, se ci riuscirò, a San Gregorio o almeno a Napoli. Come si potrà notare, il presepe è collocato nella mia veranda di casa e quindi allo sfondo del prato con annesso giardino, purtroppo in uno stato invernato dal gelo, e dalla siepe. La mia idea di partenza è stata quella di creare lo scenario di una cascina rurale, attorno alla quale creare tutto l'ambiente presepeale, e scegliendo quindi di collocare la natività non nella solita grotta o capanna, ma sotto il porticato della cascina. Molto del lavoro si è focalizzato nella progettazione e realizzazione dell'edificio rurale, creando un modellino in perfetta scala 1 a 15. Come dicevo, essendo incompleto, ho fatto in modo che la struttura dei vari piani, compresa la complessa scala incastronata dalla roccia, fosse ad incastro e non incollata, in modo tale che potrò successivamente completare l'arredo interno, oppure per fare qualche manutenzione. Per progettarlo, ai fini del trasporto, ho dovuto tener conto delle dimensioni delle porte. La più piccola, quella della taverna, dove ho costruito il tutto, è larga 75 cm, e di conseguenza ho creato una struttura che ha ingombri di 125 x 90 x 70 cm di altezza. Infatti, per passare dalle porte, si è reso necessario ruotare il presepe di 90 gradi, naturalmente i pastori non erano ancora stati collocati. Ecco, è appena iniziata una veduta aerea del tutto, dove si potrà notare meglio la morfologia del territorio, si inizia con vedere un po' meglio il porticato dove è collogata la natività, davanti ci sono i soliti animali da cortire, in questo caso dei maiali capre, un po' di personaggi, e questa è la parte del porticato, poi a scorrere c'è la scala, quella di cui parlavo, che è tra l'edificio e la roccia, è stato uno degli aspetti più laboriosi, dovendo rispettare certe proporzioni, poi inizia l'alloggiato, dove la prima, sul lato destro c'è la parte destinata al forno a legna, prima si è visto uscire il fumo, uno zoom sulla parte del terrazzo, ancora una parte del cortile, con gli allevamenti suini, e un po' di verde, cespugli, massi, alcuni di questi vengono dal mare, e non di secondo piano c'è anche il pozzo, quel pozzo in beola, che è stato realizzato senza non pochi sforzi, e poi la panchetta, il banchetto che attualmente troviamo lungo le strade, ma all'epoca conteneva tutto questo benindio, dai formaggi, dai salami, salumi, prosciutti, pentole, cesti, cestini, vasi, caffè, uova, e quant'altro, cacciotte, meloni appesi, c'è anche il barbecue, con carboni roventi, sullo sfondo altri animali di cortile, sotto la zona, al ridosso della zona dove inizia la scala, fatta anch'essa nella roccia, che serve per raggiungere la parte alta del mulino, qui vediamo lo scorore dell'acqua, della zona delle lavandaie, ritornando sulla parte alta dove c'è il mulino, anche esso ha reso necessario alcuni approntamenti tecnici, ancora un ultimo sguardo d'assieme, del tutto è questo, spero che ti piaccia, infine è un ultimo sguardo alla visione notturna, c'è da dire che l'illuminazione lungo il viottolo abbaglia in qualche modo la videocamera, che non riesce a percepire al meglio i dettagli che stanno sul retro, però si ha bene la sensazione di quello che c'è. Questo è tutto, al prossimo Natale, quando il progetto sarà completato nella sua interezza. Ciao!